Buongiorno a tutti! La storia di oggi quasi sicuramente farà parte del libro 60 secondi di successo che sto scrivendo e di cui vi avevo accennato qualche giorno fa, ma è inoltre un'anticipazione della storia che vi racconterò domani. Fra poco sono sicuro che capirete perché. Allora, vi cito due elementi, l'osmio e il Wolframio. Sono due elementi che compongono un filamento con il quale ha inventato le lampadine nel 1905 che fabbricava Karl Auer von Welsbach. Ebbene, nel 1906 questo inventore imprenditore ha quindi fondato la sua azienda, il cui marchio è proprio la contrazione, l'acronimo del Wolframio e dell'osmio, cioè Osram! Ciao!